ciao ragazzi benvenuti a un crimine al giorno e la vicenda di oggi è una vicenda veramente trucida e disastrosa la vicenda del 9 marzo siamo nel 1969 alle 11 e 45 della mattina viene scoperto un cadavere da un maresciallo dell'aeronautica sulla spiaggia di marina di vecchiano a via reggio ed è un cadavere che parla di un crimine che si è in realtà svolto a partire dal 31 gennaio ed è un crimine fra i più fra i meno conosciuti e tra i più terrificanti della storia italiana e coinvolge adesso guardiamo la scheda assieme coinvolge un ragazzino di 12 anni ermanno lavorini che è scomparso appunto il 31 gennaio e la morte pare risalire allo stesso giorno insomma a causa dello stato di decomposizione e terribili insomma le terribili ferite inflitte sul corpo del ragazzino la causa del decesso pare essere imprecisata se non che esistono parecchi segni di tagli di contusioni e probabilmente uno strangolamento anche l'arma del delitto è sconosciuta e ovviamente non ci sono testimoni ma la questione è che il delitto che riguarda una vittima di soli 12 anni è un delitto unico nella storia insomma italiana perché coinvolge sostanzialmente un minorenne marco baldisseri di anni 16 rodolfo della latta anni 20 andrea benedetti anni 13 ancora più piccolo e pietro vangioni anni venti tutti legati in maniera differente al fronte monarchico e in cerca quanto sembra di finanziamento per il fronte stesso potrebbero aver utilizzato la collaborazione del lavorini per inscenare un sequestro e ottenere del denaro in cambio per finanziare il fronte monarchico ma la vicenda coinvolge anche tale adolfo mecciani di anni 42 noto playboy omosessuale che pagava per ottenere la vicinanza con i ragazzi coinvolti con alcuni o tutti questi ragazzi coinvolti in questa questione che potrebbe anche essere stato coinvolto nella violenza fisica nei confronti di armanno lavorini per sostanzialmente ottenere dei vantaggi personali per ottenere della delle attenzioni da parte del lavorini o meglio per poter fare lui dedicare lui delle attenzioni al lavorini come aveva dedicato al bal di seri e anche agli altri in altre occasioni in feste private la versione definitiva di se si tratti effettivamente di un'estorsione per finanziare il fronte giovanile monarchico o che si tratti di attenzioni omosessuali da parte del mecciani finite male non verrà mai confermata perché esistono diverse confessioni da parte del bal di seri e alcune da parte del benedetti anni 13 uno unico non imputato ma nessuna delle versioni verrà confermata con decisione su quanto è successo effettivamente probabilmente a casa del mecciani a seguito di violenze di tipo omosessuale piuttosto che l'inscenare un tentativo di estorsione sta di fatto che ermanno lavorini morto per dichiarazione di bal di seri per delle violenze semplici di fra diciamo adolescenti piuttosto che a seguito di un festino omosessuale in cui gli è stato anche iniettato dell'eroina non è mai stata chiarita il risultato è che il tribunale ha trovato il della latte al bal di seri e il bangioni rispettivamente colpevoli e condannati a 11 8 e 9 anni mentre il mecciani a seguito di tutto ciò che dovrà ammettere in tribunale si suicida in carcere insomma queste confessioni lo portano a non voler prendere la propria responsabilità peraltro compreso in questo caso che è un caso chiuso anche due dirigenti regionali del PSI ai tempi che non vennero poi inseriti all'interno della condanna definitiva e neanche negli atti del processo in maniera diffusa comunque sta di fatto che il 9 marzo 1969 il crimine del giorno è qualcosa di terrificante e riguarda il giovanissimo Ermanno Lavorini ritrovato su quella spiaggia terribilmente violentato in tutti i sensi che sia a scopo economico oppure qualsiasi cosa d'altro un crimine al giorno poco poco conosciuto ma decisamente importante io vi saluto il Teo Crack Apart vi saluto e ci vediamo domani con un crimine al giorno botteguccia dei sigilli Crack Apart YouTube Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti